Presto i vecchi cassonetti saranno solo un ricordo per Alghero. Da dicembre la raccolta dei rifiuti si farà con il servizio porta a porta, già venerdì dal centro storico e dalla borgata di Fertilia per poi estendersi dal 18 dicembre a tutti i quartieri. Inizierà il nuovo corso dell'igiene urbana algherese. Le novità sono state illustrate dal sindaco Mario Bruno, dall'assessore dell'igiene urbana Raniero Selva, dai funzionali del comune, da Cesare Bagnari, amministratore delegato della Ciclat, la società che gestisce l'appalto di igiene urbana. La rivoluzione della differenziata, che inizierà con un periodo di sperimentazione del comune di Alghero, ha come obiettivo aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, che a oggi si attesta sulla soglia del 46%. Al centro storico e a Fertilia è già tutto pronto per il nuovo servizio, mentre nei prossimi giorni i residenti e i commercianti degli altri quartieri riceveranno il kit di contenitori per differenziare la spazzatura. Ogni raccoglitore è dotato di un particolare dispositivo per identificare l'utente e deve essere posizionato sul marciapiede nei giorni stabiliti dal calendario curato dalla Ciclat. Per spiegare ai cittadini le nuove regole, l'amministrazione comunale e Ciclat hanno già avviato una campagna di informazione con incontri pubblici, infopoint, manifesti e anche il numero verde.